Francesco Spina resta in Consiglio Comunale, Gianni Casella è eletto Presidente del Consiglio Comunale. Nominate le commissioni consigliari permanenti, rinviata a mercoledì la discussione degli assestamenti di bilancio. Sono questi i punti principali della prima seduta fiume del Consiglio Comunale di Biceglie, cominciato intorno alle 18 di ieri e finito intorno alle 5 di questa mattina. L'intervista di Francesco Rossi. Oggi è il giorno della presentazione a tutta la città delle linee programmatiche. Quali sono le prime emergenze che affronterete da domani, oltre a quelle che avete già cominciato ad affrontare? Innanzitutto quella che si palesa sotto gli occhi di tutti i cittadini, che è quella ambientale, quindi quella del decoro urbano e dell'igiene urbana, sulla quale abbiamo già messo mano e abbiamo già fatto tantissimo in pochissimo tempo. Adesso dopo una prima parte del programma dedicato a mettere in pratica tutte le misure necessarie per ripulire la città, adesso parte anche la parte relativa alle sanzioni e quindi alle multe destinate a chi continua in perterrito a sporcare la propria città. Oltre all'igiene urbana cercheremo di avviare un'estate biscelliese di un certo livello, noi abbiamo la nostra festa patronale fra qualche giorno e quindi cercheremo di affrontarla con il massimo della soddisfazione, dell'impegno e del sorriso, visto che è la festa di tutta la città e poi piano piano a tutte le altre emergenze che stiamo affrontando in questi giorni. Credo che gli auspici siano gli stessi di cui quando abbiamo terminato la precedente esperienza in Consiglio Comunale avevamo chiesto all'epoca all'amministrazione, spina, confronto, dibattiti su questioni prioritarie della nostra città, ritengo sia doveroso fare lo stesso con questa nuova amministrazione, l'Eran Garano ormai si proietta verso il futuro e agli stessi noi chiederemo le stesse condizioni, gli stessi paletti, le stesse motivazioni cui ci hanno contraddistinto nel nostro percorso politico. Una valutazione di questo primo mese, anche se naturalmente è tutto aleatorio, considerando che soltanto una decina di giorni fa c'è stata la proclamazione degli eletti, ma i primi comportamenti, i primi atti con la nomina della Giunta. Qual è la valutazione che fa Gianni Casetti? Io credo, sono abituato con tanti anni di esperienza a valutare gli atti conseguenziali sulla base del tempo, sulla base della condizione e delle linee programmatiche della stessa. Adesso ascolteremo in questo Consiglio Comunale le linee programmatiche dell'amministrazione Angarano, dopodiché le stesse dovranno essere messe in attuazione e solo dopo allora possiamo giudicare e entrare nel merito delle questioni rispetto alle priorità.